Ovviamente che tutto fa parte di un processo di crescita, è normale, ogni giocatore ha bisogno di giocare per migliorarsi, perché l'unico modo di migliorare è giocando in campo, partita ufficiale. Penso che sia stata la scelta giusta sia a Catery che a Empoli di andare a fare esperienza, perché adesso sono conosciuto tanto e mi sento pronto e penso che lo sto facendo bene, però non mi rilasco e cerco sempre di migliorare e crescere. Questo per la casa, tutta la tua.